Entro Pasqua dovrebbe tornare la luce sulla passeggiata che porta a Villa Olmo. A comunicarlo gli uffici di Palazzo Cernezzi. La gara è chiusa e si deve procedere con l'affidamento formale, spiegano. Entro qualche settimana l'illuminazione dovrebbe essere ripristinata. Un problema, quello della camminata sul lago al buio, che dura ormai da tempo. Lo scorso 15 febbraio, a seguito di alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune aveva fatto sapere che era in corso la procedura di affidamento di alcune manutenzioni, tra cui quella dell'illuminazione della passeggiata, considerata prioritaria. Ancora non si era riusciti in quell'occasione a indicare la tempistica di ripristino. Gli uffici avevano ipotizzato una settimana o due, in base ai tempi di affidamento della gestione e della successiva riparazione. L'attesa si è però prolungata e ora si sa che si dovrà aspettare almeno l'inizio della primavera per tornare a camminare verso Villa Olmo dopo il tramonto del sole. La passeggiata rimane quindi impraticabile, visto che non viene anche un lampione funzionante. Il problema si pone soprattutto con l'arrivo di temperature più gradevoli, che portano sempre sul lago cittadini e turisti anche in orari serali.